Erano le sette del mattino e Śrīla Prabhupāda sedeva sulla predella, nel tempio. Accanto a lui, sopra un altare, stava una statua di Krishna acquistata di recente. Krishna bambino, alto 60 centimetri, teneva la mano sinistra sul fianco e con la destra reggeva un bastone. Gurudas l'aveva trovato in un magazzino di oggetti di importazione e aveva chiesto al direttore di vendergliela e dopo alcune visite l'uomo gliela aveva ceduta per 25 dollari. Prabhupāda gli aveva attribuito il nome di Kartamishai, il padrone. Quella mattina, mentre Prabhupāda e Kartamishai si guardavano intorno, solo sei persone erano presenti nella stanza. La sera prima il tempio era stato affollato. Dove sono gli altri? Prabhupāda chiese. Poi egli stesso dette la risposta. Stanno tutti dormendo? Tutto questo sonno non va bene. Prese i kartal e attaccò con il ritmo 1-2-3. Mukunda prese l'amridanga e suonò cercando di eseguire i ritmi che recentemente Prabhupāda gli aveva insegnato. Srila Prabhupāda non aveva ancora cominciato a cantare quando sei o sette hippies a piedi nudi irruppero diffondendo l'odore della marijuana. Si guardarono intorno e si sedettero sul pavimento, mentre Prabhupāda cominciava a cantare il Guru Aztakam, la preghiera Vaishnava per il maestro spirituale. Benché nessuno dei discepoli ne conoscesse le parole, amavano ascoltare quando Swamiji cantava quella preghiera del mattino. Senza fretta, egli cantava ogni verso diverse volte, ripetendo ogni linea, depitamente sviluppando lo stato d'animo di servizio incondizionato al maestro spirituale. Poi uno degli hippies, un ragazzo che aveva lunghi capelli biondi e portava una fascia rossa sulla testa, cominciò a mormorare, ad agitarsi e a lamentarsi. Qualcuno a bassa voce gli chiese di stare tranquillo. Il ragazzo si acquietò per un momento, ma poi cominciò a lamentarsi. Suamiji e i suoi seguaci erano abituati ai ragazzi che in preda alla droga stavano alzati tutta la notte e venivano al programma del mattino con un atteggiamento distruttivo. Generalmente i visitatori si adattavano alle regole. Anche se occasionalmente si comportavano in modo strano e parlavano ad alta voce, generalmente si rasserenavano cantando Hare Krishna e cercavano di armonizzarsi con l'energia dei devoti. Ma ora quell'ospite discordante sembrava agitato dal canto, come se il canto lo stesse sfidando, o piuttosto sembrava che fosse lui a sfidare il canto. I devoti cominciarono a battere il tempo con i kartal di Prabhupada e quando Prabhupada cominciò a cantare Hare Krishna, i nuovi venuti immediatamente si unirono a lui, cantando sia come guida che come coro. Prabhupada li guardò con gravità, incoraggiando la sudicia e mattiniera masnada di ragazzi e i ragazzi risposero con determinazione. Gli ospiti sedevano nella loro narcotica contemplazione, sebbene qualcuno tentasse di cantare. Il ragazzo biondo con la fascia rossa restava però decisamente disarmonico e si lamentava in modo provocatorio, cercando di distruggere gli effetti del canto. Tuttavia, nonostante queste esplosioni, talvolta forti e selvagge, Prabhupada continuò a guidare il kirtan e i devoti continuarono a cantare. Mukunda e Ayagriva si scambiavano sguardi ansiosi, ma tolleravano il ragazzo non sapendo cosa altro fare. Alcuni devoti erano disturbati e anche spaventati, ma anche loro avevano sentito dire dallo Swami in lezioni recenti che i devoti avanzati non sono mai scossi, in nessuna circostanza. Swamiji era il loro capo, non solo nelle preghiere devozionali, ma anche nel modo di reagire contro gli intrusi e guardandolo aspettavano da lui un segno. Prabhupada restava indisturbato. Anche dopo venti minuti di kirtan forte e determinato, però la pazzia del ragazzo non si placava. Quando il kirtan prendeva slancio, il ragazzo diventava più agitato. Gridava come un'anima perduta e urlava come un cantante rock. Il suo turbamento e la sua collera aumentavano. Quando i devoti si alzarono in piedi e cominciarono a danzare, anche il ragazzo danzò a modo suo, piangendo e battendosi il petto. Mukunda percuoteva con maggiore energia il tamburo. I suoni erano discordanti, il contrasto di pazzia individuale e di canto di gruppo, finché finalmente Prabhupada concluse il kirtan. I devoti si inchinarono sul pavimento e Srila Prabhupada intonò le preghiere sanscrite che onorano i maestri spirituali, il Signore Supremo e i luoghi sacri. Tutte le glorie ai devoti riuniti, disse. Essi risposero, Hare Krishna, tutte le glorie ai devoti riuniti, Hare Krishna, tutte le glorie ai devoti riuniti, Hare Krishna, Molte grazie, disse Prabhupada. E poi, come ogni mattino, annunciò il canto di un giro di giapa. Tutti si sedettero, compreso il ragazzo hippie che aveva perso il senno. I devoti tolsero di mezzo tamburi e kartal e andarono a prendere i loro giapa rossi sullo scaffale e cominciarono a cantare all'unisono. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tenendo una perlina tra le dita, pronunciavano il mantra e procedevano spostando le dita sulla perlina seguente. Sorpreso dal cambiamento degli eventi, il ragazzo biondo commentò ad alta voce. È troppo! Mentre il rapido canto riempiva la stanza, il ragazzo balzò in piedi gridando. Venite con me! Piruettava di fronte a Prabhupada e gridava. Io sono Dio! Poi cominciò a lanciare gli urli forti e prolungati di un guerriero. Wow! Wow! Ah! Oh! Soghignò, ringhiò, brontolò, si lamentò e batte i piedi. Come un bambino, esplorò ogni suono che la sua voce poteva emettere. Battendosi ripetutamente il petto con i pugni, gridava Io sono Dio! Mentre improvvisamente uno dei suoi amici suonava alcune note sul suo panpipe. Shila Prabhupada continuò il canto del giapa e anche i devoti tentarono di continuare il canto senza paura mentre simultaneamente tenevano d'occhio il pazzo domandandosi quando tutto ciò sarebbe finito. Allora, con una finale violenta esplosione, il ragazzo strillò Io sono Dio! E disgustato e incollerito, si precipitò fuori dalla stanza sbattendo la porta dietro di sé e gridando mentre correva giù per la strada. Il canto appropriato del giapa immerse il negozio in una totale serenità e la voce di Shila Prabhupada riprese il suo posto al di sopra delle voci di tutti gli altri devoti che cantavano. Dopo dieci minuti di canto Prabhupada recitò Sarvatmas Napanam Parambijayate Sri Krishna Sankirtanam tutte le glorie al canto congregazionale Hare Krishna che pulisce lo specchio della mente dalla polvere e ci permette di gustare il nettare che desideriamo da sempre. Quando Prabhupada si mise gli occhiali e aprì la Bhagavad Gita ogni mattina leggeva un passo del sesto capitolo tutti si sistemarono nella stanza e si disposero in silenzio ad ascoltare la sua lezione. I suoi studenti alcuni dei quali stavano da oltre due mesi assimilando i suoi insegnamenti ascoltavano attenti mentre egli parlava del messaggio eterno trasmesso attraverso la paramparà. Era il messaggio senza tempo di Krishna eppure Suamiji lo stava presentando proprio per loro che erano seduti sulle stuoie in quel piccolo negozio di Frederick Street in Hyde Ashbury in quelle ore del primo mattino. Prabhupada parlò della trasmigrazione delle anime. Le persone sciocche diceva aspirano a ottenere beni materiali non sanno che queste cose finiscono con la morte del corpo la vita spirituale invece è della massima importanza perché non va mai perduta perciò anche se la coscienza di Krishna arrecasse disturbo e diventasse scomoda non dovrebbe mai essere abbandonata. Shri Prabhupada metteva in rilievo il fatto che un devoto non è mai disturbato punto questo che appariva rilevante dopo l'episodio di quel mattino. Un devoto spiegava Prabhupada è sempre tollerante. Prabhupada narrò la storia di Haridastakuru un contemporaneo di Shri Chaitanya un grande devoto che aveva dovuto sopportare durissime percosse per mano di un magistrato musulmano mentre raccontava quella storia improvvisamente Prabhupada cominciò a dialogare oh il magistrato disse ad Aridas sei nato in una famiglia così irrispettabile e canti Hare Krishna allora Prabhupada interpretò la parte di Aridas signore molti hindù sono diventati musulmani perciò se qualche musulmano diventa hindù dov'è il danno? Prabhupada non cambiava il tono o l'accento della sua voce mentre esponeva le differenti parti del dialogo eppure con la sottile arte di un cantastorie adattava la sua voce a ogni persona diversa il magistrato rispose con tono minaccioso oh osi discutere? allora Prabhupada diventò il narratore così egli decise che Aridas doveva essere punito dare a quel cane una cattiva fama e impiccarlo Prabhupada si trasformò così nei fustigatori di Aridas i quali nonostante le ripetute e dure percosse non erano in grado di far piangere Aridas per il dolore infine esausti essi dissero signore l'idea era quella di farti morire ma vediamo che tu non soccombi così ora noi dobbiamo aspettarci un castigo Aridas domandò che cosa volete i fustigatori vogliamo che tu muoia narratore allora egli finse di essere in Samadhi e i fustigatori lo portarono dal magistrato il magistrato gettatelo nell'acqua non portatelo al cimitero perché egli è diventato hindù Shrila Prabhupada concluse il suo racconto gli altri lo fustigavano ed egli cantava Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare egli non era turbato era stabile per questa ragione Krishna afferma che una persona realmente avanzata non conoscerà la miseria nemmeno in questo mondo che dire quindi dell'altro un devoto non deve mai subire una perdita spiegava Prabhupada anche se non riesce a essere perfettamente cosciente di Krishna anche se cade nella vita successiva otterrà una nascita umana c'era una volta un principe Prabhupada iniziò una storia per illustrare questo punto il principe si chiamava Satyavan il suo oroscopo diceva che a una determinata età avrebbe dovuto morire tuttavia una ragazza che si chiamava Savitri si innamorò di lui e lo voleva sposare il padre della ragazza diceva alla figlia è destinato a morire a una certa età non sposarlo ma lei era decisa e lo sposò con il tempo il ragazzo morì e a quanto si dice dopo 5 o 6 anni e la ragazza si trovò ad essere vedova lei però era così inflessibilmente innamorata che non voleva lasciare andare via il corpo allora Yamaraj come si dice in inglese per riferirsi alla persona che porta via il cadavere o l'anima dopo la morte egli arrivò e portò via l'anima ma questa ragazza fedele non voleva permettere al corpo del marito di andarsene per la voce e gli occhi spalancati Prabhupada sembrava Yamaraj il signore della morte che parlava a Savitri la vedova è mio dovere prenderlo lascialo andare altrimenti sarai punita la ragazza lasciò il marito ma seguì Yamaraj allora Prabhupada nella parte di Yamaraj con una leggera inflessione della voce diventò compassionevole cara ragazza torna a casa ti darò la benedizione di avere un figlio non piangere per tuo marito Savitri però continuava a seguire Yamaraj e Yamaraj chiese perché mi segui? allora Prabhupada nella parte di Savitri disse non con voce femminile ma con la mentalità e il sentimento di Savitri ma se mi stai prendendo mio marito come potrò avere mio figlio? Prabhupada allora parlò nella parte del narratore allora egli si trovò in un dilemma e le restituì il marito analogamente esiste una tecnica se accetti la coscienza di Krishna allora tuo marito ossia la tua forma di vita umana è garantita i devoti compresero il nocciolo della questione ma non avevano ben chiaro che cosa la donna della storia avesse a che fare con la loro vita alcuni però compresero se avessero accettato la coscienza di Krishna le loro vite predestinate alla malattia sarebbero diventate propizie si Prabhupada continuò una vita spirituale è la vita più propizia guardò con enfasi i devoti seduti intorno a lui sul pavimento chiunque avesse compiuto qualcosa di bello qualcosa di più propizio non sarebbe mai stato vinto non sarebbe mai stato posto in difficoltà questa è una cosa veramente bella concluse la lezione e attese le domande una donna alzò la mano dici che le persone sciocche adorano la fotografia di qualcuno che se ne è già andato hai dato l'esempio di George Washington o di Gandhi ma può una fotografia di un maestro spirituale essere veramente di aiuto per insegnare agli altri ad amarlo si disse Prabhupada coloro che sono spiritualmente avanzati non sono diversi dalla loro fotografia proprio come qui qui è presente la statua di Krishna essa non è differente da Krishna la persona originale Krishna e questa statua di Krishna si equivalgono anche quando cantiamo Hare Krishna Krishna e il nome di Krishna non sono differenti capite questo concetto? se non ricevessimo un po' di luce spirituale cantando Hare Krishna pensate che saremo qui a sprecare il nostro tempo? no non stiamo sprecando il nostro tempo stiamo in realtà ricevendo estasi spirituale perché non esiste differenza similmente una persona spiritualmente perfetta e la sua fotografia si equivalgono perché questo è lo stadio dell'assoluto è chiaro? Govinda Dasi alzò la mano dici che dopo aver lasciato questo corpo una persona cosciente di Krishna sale ai pianeti superiori? Prabhupada no se raggiungi la perfezione della coscienza di Krishna allora dopo aver lasciato questo corpo torni direttamente a Krishna se invece non sei perfetto se ne hai realizzata soltanto una determinata percentuale allora godrai dell'opportunità di avere un nuovo corpo umano tuttavia chi ha capito che cos'è Krishna come Krishna nasce come Krishna agisce non dovrà più nascite materiali allora dove andrà? egli torna a me ciò significa che raggiunge il supremo rifugio di Krishna perciò dobbiamo essere molto seri perché dovremmo aspettare di rinascere di nuovo anche se in una famiglia pia in una famiglia ricca o su di un altro pianeta questo corpo umano ti può permettere di ottenere la massima perfezione ma dobbiamo essere seri e volere quella perfezione noi invece non siamo seri non siamo molto seri in realtà civiltà umana significa essere molto seri per raggiungere la perfezione di questo corpo umano questa è la civiltà perfetta questo attualmente è andato perduto Krishna Prabhupada rimase in silenzio per qualche minuto senza muoversi nessuno dei presenti fiatò infine prese i carta e cominciò a farli risuonare cantando Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya i devoti si unirono a lui nel canto Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya era desiderio di Shilla Prabhupada vedere che i suoi discepoli avanzassero in coscienza di Krishna al cento per cento nella vita presente potevano farlo certamente perché il canto era potente in modo assoluto se ci fosse stato qualche aspetto che non avrebbero potuto capire avrebbe pensato lui a spiegarlo Govinda Dasi non aveva capito aveva pensato che un devoto sarebbe salito ai pianeti superiori ora però anche per lei era chiaro inoltre lui aveva raccomandato a tutti di essere più seri sapeva che talvolta andavano alla pasticceria e fumavano perfino sigarette dopo i Kirtan ed egli lo tollerava tuttavia voleva che sapessero che in realtà il suo desiderio era quello di vederli diventare completamente seri se non lo fossero diventati avrebbero dovuto salire ai pianeti superiori ma con quale vantaggio ricevere una nascita in forma umana richiedeva moltissime vite la vita umana è destinata alla perfezione e quindi avrebbero dovuto essere seri noi però egli aveva detto non siamo seri dopo il Kirtan Prabhupada lasciò il negozio e tornò al suo appartamento Hayagriva volgendosi ad Aridas chiese perché nessuno avesse cacciato fuori dal negozio quel ragazzo a New York disse Hayagriva Brahmananda l'avrebbe fatto uscire al primo accesso eccesso forse devi andare cauto con gli hippies qui spiegò Aridas la parola d'ordine è tatto in questa zona se qualcuno va in giro pieno di LSD la gente automaticamente presume che gli si debba il rispetto che si deve a Dio e che debba essere tollerato essi entrano saltano su e giù e gridano ma non possiamo mettergli le mani addosso perché sono considerati i santi dell'LSD se avessimo toccato quel ragazzo l'intero circondario ce l'avrebbe fatta pagare i diggers della porta accanto sono abbastanza rumorosi ma non suonano i loro jukebox durante le lezioni e si sono mostrati amici offrendoci dei tessuti e aiutandoci a decorare il tempio talvolta gli Hells Angels vanno là e fanno un grande baccano e talvolta entrano anche qui se lo fanno la cosa migliore è assecondarli sono sempre agitati quella mattina all'alba alcuni degli Hells Angels avevano dato inizio a una lotta nel negozio dei diggers i devoti udivano tonfi e gridi attraverso le pareti mentre un grosso uomo di colore colpiva tre degli Hells Angels la rissa ebbe termine soltanto dopo l'arrivo dell'auto della polizia e dell'ambulanza in seguito dieci o dodici persone entrarono nel tempio e parlarono della rissa Arsciarani portò dei piatti supplementari per gli ospiti un giorno di marzo un giovane di diciotto anni Wayne Gunderson stava camminando per la strada quando un pezzo di carta volando qua e là sul marciapiede capitò sotto il suo piede cercò di allontanarlo con un calcio senza interrompere l'andatura ma esso vi rimase attaccato allora si fermò e cercò di scalciare per disfarsene ma senza esito si chinò lo prese e si accorse che era un volantino resta in alto per sempre che pubblicizzava le lezioni di Swami Vaktivedanta al numero 518 di Frederick Street come molti altri Wayne un giovane beneducato che lavorava all'ufficio postale era arrivato ad Hyde Ashbury per prendere parte alla rivoluzione frequentava i concerti di rock e i locali dalla moda cercava con curiosità tra i libri e i poster dei negozi psichedelici divideva il suo appartamento con la sua ragazza e con un'altra coppia e si drogava tuttavia era quieto educato e solitario non vestiva come un hippie ma indossava abiti puliti tradizionali e casuali e un capriccioso cappello sportivo di strana foggia il volantino che parlava dello Swami gli sembrò una coincidenza tempestiva perché Wayne aveva progettato di andare in India per trovare un guru decise quindi di andare a visitare Swami Baktivedanta in Frederick Street Wayne fu sorpreso di trovare soltanto un negozio era stato sorpreso dalla fotografia dello Swami della vetrina non uno yogi barvuto e sorridente ma uno Swami dalla testa rasata e dall'aspetto severo Wayne entrò era una tipica scena Hyde Ashbury con hippie seduti qua e là tuttavia erano presenti anche persone che portavano collane di perline rosse come ghirlande intorno al collo di fronte a sé vide lo Swami Wayne fu colpito quando Prabhupada cominciò a cantare Hare Krishna e trovò che la sua lezione era decisa e autorevole lo Swami rilevò noi non siamo questo corpo e quando parlò di Krishna descrisse Krishna in modo così personale che egli ebbe l'impressione di essere introdotto alla sua presenza dopo qualche incontro Wayne trovò il coraggio di fargli una domanda è possibile praticare l'ata yoga e simultaneamente la coscienza di Krishna oh vuoi sprecare tanto tempo con il tuo corpo Prabhupada rispose e Wayne sentì che gli occhi di Prabhupada penetravano in profondità dentro di lui tu non sei questo corpo disse ciò con tanto impeto che Wayne che era facilmente ferito si sentì indietreggiare sul pavimento questo corpo non è importante come l'anima spiegò Shri da Prabhupada perciò non bisogna dedicare molto tempo al corpo sopravvalutare le sue esigenze poi sorrise a Wayne inoltre disse tutte le forme di yoga culminano nella coscienza di Krishna Wayne sentì che quel sorriso lo sollevava fuori dalla sua condizione umiliata e sconfitto alcune settimane più tardi Wayne chiese l'iniziazione quando i devoti gli dissero che poteva salire e vedere lo Swami Wayne andò prima a casa e si preparò anticipando ciò che Prabhupada avrebbe detto Wayne si preparava le risposte e immaginò l'intera conversazione poi nervosamente si avvicinò alla porta di Prabhupada tuttavia prima che avesse il tempo di bussare la porta si aprì e Wayne si accorse che Prabhupada lo stava osservando non severamente come nel ritratto ma gentilmente come se lo aspettasse sì Prabhupada disse entra l'incidente sconvolse completamente l'approccio programmato di Wayne concluse che Swamiji poteva leggere nella mente così cercando di ripulirsi dai cattivi pensieri entrò nell'appartamento di Prabhupada Prabhupada sedeva sulla sua sedia a dondolo e Wayne che usualmente sedeva sul pavimento si sedette sull'unica altra sedia della stanza Wayne immediatamente si sentì a disagio e realizzò che sarebbe stato più corretto sedersi ai piedi di Prabhupada ma sentendosi troppo debole per cambiare la situazione conservò il suo posto spostando nervosamente il cappello sportivo con le dita Swamiji esordì vorrei diventare tuo discepolo Prabhupada accondiscese immediatamente si informò se Wayne poteva seguire i quattro principi e Wayne benché non fosse sicuro di conoscerli con esattezza rispose di sì Prabhupada gli chiese poi quale fosse per lui il principio più difficile da seguire bene disse ho difficoltà con la carne era una bugia infatti era vegetariano ma si vergognava molto di dire che il suo vero problema consisteva nel controllare il desiderio sessuale Prabhupada rise oh questo non è un problema ti daremo il prassadame potrai essere iniziato la settimana prossima Wayne allora chiese se egli avrebbe potuto andare in India sentiva che lo Swami sarebbe stato contento di sentire che il suo nuovo seguace voleva recarsi nel suo paese ma Prabhupada si mostrò dispiaciuto India perché India Wayne pensava la vera ragione che aveva per recarsi in India era quella di trovare un guru beh disse per imparare il sanscrito il sanscrito te lo insegnerò io disse Prabhupada perciò non era necessario andare in India sarebbe stato iniziato da un guru genuino la settimana dopo proprio là a San Francisco alcuni devoti aiutarono Wayne a prepararsi per la cerimonia dell'iniziazione Haiagriva gli prestò il suo doti un pezzo di tessuto giallo troppo largo per Wayne i devoti preparavano l'arena del sacrificio nel negozio uno strato di terra legna da ardere colori da tintura fiori durante la cerimonia Wayne era nervoso quando Prabhupada cantava i mantra Wayne non riusciva a sentirli con esattezza e li imitava meglio che poteva quando Prabhupada cominciò a preparare il fuoco del sacrificio Wayne si sentì spaventato al pensiero che l'iniziazione era un impegno molto serio osservava con gravità Prabhupada che alimentava il fuoco e pronunciava i mantra quando Wayne ricevette il suo nuovo nome Upendra non lo percepì chiaramente e cominciò a preoccuparsi poi la cerimonia finì Prabhupada si alzò e all'improvviso lasciò il negozio Upendra qualcuno mi ricordò che avrei dovuto salire e dare a suamici un'offerta decisi di dargli una coperta da bambino e un asciugamano da spiaggia non è che mi mancasse il denaro ma queste cose avevano un valore sentimentale per me e volevo offrirle a suamici salì nella stanza e lo trovai seduto ai piedi del suo materasso entrai mi inchinai e gli presentai la copertina e l'asciugamano da spiaggia egli li sollevò tra le dita li osservò scusate egli li osservò tra le dita li osservò tenendoli con entrambe le mani e disse sono inutili e li abbandonò sul pavimento mi sentii ferito e non sapevo che cosa dire mi sedetti dopo un po' di tempo mi scusai e tornai a mia parte il giorno successivo tornai a visitare lo suami durante le ore di visita e vidi che teneva l'asciugamano da spiaggia e la coperta come stuoie sul pavimento in modo che gli ospiti venuti in visita vi si potessero sedere fui soddisfatto di vedere che aveva trovato il modo di usare la mia offerta già ci terminiamo qui chi vuole può collegarsi con il tempio di Medolago e seguire la lezione di sua grazia ma do se abita proprio sce la propa da chi già di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra